Sono ripresi mercoledì gli allenamenti al partenio Lombardi per l'Avellino. La squadra, dopo quasi dieci giorni di vacanza, è tornata ad allenarsi sul sintetico di contrada Zoccolari. Presumibilmente si andrà avanti fino a sabato, poi si valoterà il tutto. Si riparte, ma nel silenzio, con la squadra al lavoro per una preparazione che, nei fatti, segue solo gli aspetti contrattali legati a una stagione che ufficialmente termina il 30 giugno prossimo. Ovviamente c'è l'accordo per continuare gli allenamenti, come espressamente spedato dall'Aiaci, Associazione Italiana Calciatori. Gli allenamenti di questa settimana hanno una valenza molto più importante. Infatti, nei prossimi giorni, dopo una lunga attesa, arriverà il direttore generale Ernesto Salvini. L'accordo per la risoluzione con il direttore sportivo Enzo De Vito, come annunciato nell'escorsione, ha dato l'accelerata per l'arrivo in Irpina del DG con un passato alla Frosinone. Quest'ultimo sarà chiamato a giudicare, che avrà la possibilità di rimanere in bianco verde per il futuro o chi andrà via. Sarà Salvini appunto, in compagnia della proprietà, a determinare le scelte sul tecnico. Massimo Rastelli ha un contratto con scadenza 2024 e un plungamento fino al 2025 in caso di esonero. E poi da lì verrà definito il programma per il mercato e per la Rosa 2023-2024, chiamata a rilanciare tutto dopo una stagione da film horror. Grazie a tutti.